Quando qualcosa non va per il verso giusto si pensa subito a un pronto riscatto, si pensa subito a riscendere in campo per provare a invertire una brutta rotta. Questo è il pensiero un po' di tutto l'ambiente rosso-nero dopo le due sconfitte che, senza fare giri pindarici, al momento evidenziano come il Foggia abbia qualche problema, almeno nei confronti degli ultimi due avversari. Si è parlato spesso di assenze forzate, quelle per squalifica, quelle per infortuni, si è parlato di ritardi di preparazione e certamente le assenze comunque di Galano, Iemmello, Rizzo, Busellato, senza nulla togliere a chi è entrato in campo, possono essere sicuramente una buona attenuante. Sabato a Pescara ci sarà la possibilità di recuperare un'altra pedina nello scacchiere rosso-nero. Potrebbe scendere in campo quel Galano che è stato, da almeno un paio di stagioni, il desiderio segreto della società e di tanti tifosi rossoneri. L'impiego di Cristiano non sarebbe solo un vantaggio per le doti tecniche del singolo, anche perché da sole non basterebbero, ma potrebbe invece servire per vivacizzare un reparto, quello avanzato che ha avuto non poche difficoltà ad arrivare in porta nelle ultime due gare. Quindi Galano potrebbe diventare non solo il cuneo capace di aprirsi un varco nelle difese arroccate, ma di essere una spalla valida di quel mazzeo che è sembrato troppo solo e nascosto. Con questo ingresso si può cominciare a intravedere il vero volto del nuovo Foggia? Probabilmente sì, il talentuoso calciatore ex Bari potrebbe essere soprattutto un punto di riferimento per i compagni in campo. Grassadonia lo sa, la società lo sa, i tifosi lo sperano.